L'Osservatorio Diplomatico Italiano, organismo che ha sede a Bari e che nel corso del 2010 ha portato sul territorio pugliese otto ambasciatori di altrettanti paesi esteri al fine di creare nuove opportunità commerciali che possano contribuire ad esportare prodotti e luoghi della Puglia, ha tenuto l'incontro annuale nel Palazzo Ducale di Pietramonte Corvino, dove alla presenza di numerose autorità sono state illustrate le linee di intervento per il 2011. L'Osservatorio Diplomatico ha scelto la Capitanata nel corso del 2010 per introdurre alcuni diplomatici che hanno potuto conoscere i prodotti tipici e le realtà locali e turistiche dei territori di Lucera, Pietramonte Corvino, Orsara e Poggio Imperiale. Presente all'incontro anche il console del Guatemala, Claudia Barrientos de Peres. Sono qui da circa dieci anni, mi sono innamorata del vostro territorio e per questo motivo siamo ancora presenti, proprio per creare questo scambio commerciale e culturale con il vostro territorio e la nostra terra, il Guatemala. Complimenti veramente perché avete una grande ricchezza in tutto senso, culturale e gastronomico e quindi per me è un piacere proprio diffondere anche la vostra cultura.